Ci troviamo in aeroporto, in uno dei nostri uffici. Solo per il gestore aeroporto di Bologna qui lavorano più di 500 persone. Siamo una realtà inclusiva che rispetta tutti e tutte. Per noi il lavoro è il lavoro e non ci sono differenze fra le persone. Non sono solo parole perché il nostro impegno è attestato dalla certificazione ISO 30415 2021 che per la prima volta sancisce il livello di maturità di un gestore aeroportuale italiano sui temi diversità e inclusione nell'ambito risorse umane. Aeroporto di Bologna è stato valutato su cinque aree principali governance, leadership, cultura dell'inclusione e rapporti con i fornitori e gli stakeholder. In particolare l'audit ha analizzato la coerenza tra i principi di diversità e inclusione e le pratiche aziendali lungo tutta la filiera e lungo il ciclo di vita del dipendente. Politiche di equità remunerativa, diffusione di una cultura inclusiva, welfare aziendale per tutte le fasce d'età, formazione e opportunità di crescita per tutti i dipendenti e turnover basso. Questi sono i punti di forza di Aeroporto di Bologna sul tema diversità e inclusione.